È un patrimonio di tutti, noi siamo forestieri perché veniamo da Firenze, ma ormai ce l'abbiamo nel cuore, è un patrimonio dell'umanità. Dobbiamo preservarlo, dobbiamo salvarlo, dobbiamo dargli altri 700 anni di salute con i mezzi a nostra disposizione e con le analisi che siamo riusciti a fare e che vogliamo portare in fondo nel miglior modo possibile. Una pedalata da Rezzo verso Ponte Buriano per incontrare la cittadinanza e fare il punto della situazione sulle condizioni del Ponte Romanico. Pedalando verso il nuovo Ponte Buriano è infatti il nome dell'evento organizzato dalla FIAB, dalla Cric di Ponte Buriano e dal Comitato La Valle delle Piagge. In occasione dell'incontro di oggi con la cittadinanza vorremmo far notare anche alle persone le criticità che ormai hanno accompagnato tutto il restauro di questo manufatto che abbiamo preso a cuore anche noi come impresa. Vorremmo far notare anche come la situazione dei timpani, una volta che è stato risolto il problema strutturale sulla maggior parte dei rostri del ponte, sia ormai in un evidente stato avanzato di problemi strutturali seri. Il continuo passaggio ancora del traffico compromette man mano che avanza il tempo la resa e la staticità del ponte e sono urgenti gli interventi di restauro che ora nella terza fase noi stiamo approntando, sia lavorando nella parte dell'arco che nella parte dei timpani, analizzando gli interventi più di emergenza che al momento sono da portare in fondo. Abbiamo visto questi fili dell'Enel che tengono ormai alcuni sassi? Ebbene sì, ci stanno dando una mano ma a riprova che purtroppo il ponte è al limite della sua supportazione. In diversi punti sulle varie arcate ci sono già elementi che si sono staccati, anche in questo caso e per fortuna potremmo intervenire, dovranno essere ripristinati completamente tutta la parte della muratura, però questi sono interventi che non salveranno il ponte se non interveniamo a un livello di gestione stradale. I lavori su Ponte Buriano erano ripresi lo scorso settembre. La provincia di Arezzo ha infatti appaltato l'intervento finanziato dalla regione toscana per 700 mila euro e conta di portarlo a termine presumibilmente entro il mese di febbraio 2020. L'intervento adesso si concentra sulle finiture dei rostri precedentemente ultimati e comprenderà anche le due arcate in zona golenale.